Pronto? Pronto salve senta la chiamo per il biglietto che ha lasciato sul parabrezza della mia macchina dicendo che è stata lei ad ammaccarla beh innanzitutto volevo ringraziarla per il biglietto perchè ormai qua nessuno fa queste cose quindi la ringrazio a proposito lei è assicurato vero? come? come ho detto scusi? non ho capito che ha detto Aspetti, aspetti, solo per chiarire. Io ho un biglietto con questo numero di telefono a cui sto chiamando e con la targa, che quindi dovrebbe essere quella della sua macchina, che ha ammaccato la mia teoricamente. E lei mi dice di no? Che non è stato lei, quindi? Sì, sì, è stato io. Questo è il tuo numero. Va bene, va bene, allora la cosa cambia. Vediamo, io posso fare così, denuncio il sinistro alla mia assicurazione, indicando la sua targa, perché è l'unica cosa che ho in mano. No, sì, sì, sì. E poi lei che è tutto con la sua compagnia assicurativa, quando la contatteranno. Sì, sì, non ti preoccupare. Così ci vediamo, la stagione è per i vecchi, sì, sì, ci vediamo. Faccio tempo compito, parla, parla, io ci sento queste cose. Benissimo, allora vediamo se riesco a farmi pagare la sua assicurazione dal tracere della macchina, così. Vi ricerco anche di farmi pagare la mia assicurazione dal tracere della macchina, così. Prego, prego. Grazie tante, davvero. Grazie, ciao. Grazie, ciao.